A Teramo la Casa del Popolo in vista del presidio che si terrà venerdì in Largo San Matteo sotto la prefettura torna a chiedere al Comune e all'Ater risposte concrete all'emergenza abitativa in città. Una criticità diventata una vera emergenza sociale che convolge numerose persone costrette a vivere in condizioni di gravi disagio. Questo nonostante in città ci siano, detta dell'associazione, abitazioni Ater ancora inutilizzate. Dopo aver fatto una denuncia sotto a Via Longo dove le mancanze del Comune sono evidenti, case vuote mentre la gente fa richiesta per l'emergenza abitativa e per entrare nelle case popolari, abbiamo una situazione grottesca anche qui a Collaterrato, un quartiere che sapete benissimo martorriato dal terremoto. Le case qui tra noi sono chiuse, le case qui sopra sono state ristrutturate ma non sono state date ai propri condomi e qui dove ci troviamo c'è una situazione ancora più assurda. Ci sono delle case popolari fatte dall'Ater al piano terra che non vengono ancora consegnate. Ci sono diversi appartamenti qui nella zona, appunto ce l'hanno segnalati gli abitanti. Questi abitanti invece di rivolgersi alle istituzioni si sono rivolti a noi e ci hanno detto che è un vero scandalo che delle case qui a Collaterrato vuote ancora non vengono consegnate. L'associazione ha lanciato un appello al nuovo presidente dell'Ater Alfredo Grotta invitandolo a prendere provvedimenti concreti per migliorare la gestione dell'ente e affrontare le criticità che stanno aggravando la condizione abitativa di molte famiglie. L'appello della Casa del Popolo è quello di muoversi, di non perdere più tempo e soprattutto è quello di iniziare a lavorare seriamente a 360 gradi sul problema dell'emergenza abitativa a terra. Il presidio di venerdì si propone di sensibilizzare sia le istituzioni che l'opinione pubblica richiamando l'attenzione sull'urgenza di interventi mirate a garantire il diritto alla casa e a migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili. Quello che noi andremo a chiedere venerdì sotto alla prefettura, al prefetto a cui abbiamo fatto una richiesta di essere appunto incontrati è quello di bloccare gli sfratti. Bisogna bloccare gli sfratti fino a quando viene superata l'emergenza terremoto perché il terremoto ha drogato il mercato degli affitti, non si trovano case di affitti normali. Se la gente viene sfrattata non trova una casa, non ci sono case popolari dove mettere queste persone quindi che facciamo? Facciamo come durante la pandemia, blocchiamo gli sfratti fino a quando non si risolve l'emergenza terremoto.